E tornano gli amici del Museo Nazionale della Fotografia all'interno di Teletutto Racconta. Abbiamo con noi la vicepresidente del Museo Luisa Bondoni, ciao Luisa, che è anche curatrice artistica, e c'è con noi anche il segretario Gian Battista Pruzzo, segretario del Museo Nazionale della Fotografia. Buonasera. Allora, oggi di che parliamo Luisa? Ci sono tantissime cose. Io direi di partire dall'ultima inaugurazione che abbiamo fatto, che è stata la premiazione e inaugurazione del concorso San Faustino, giunto alla 42esima edizione, e in occasione di questa inaugurazione abbiamo consegnato il premio al personaggio bresciano dell'anno. Quest'anno è stato consegnato a Don Fabio Corazzina. Don Fabio Corazzina, personaggio dell'anno? Sì. Ok, lei ha seguito il tutto, immagino. Sì, era un punto, questo qua, del personaggio dell'anno, che mi sta a cuore, che ho voluto perché sono da 35 anni che sono segretario del museo. In tutti questi anni ho visto l'affetto che la città rivolge a Vestola, la nostra associazione, il Cinefotoclub, e quanto ci è stato avvicinato in tutti questi anni. Mi sembrava giusto ricambiare e ringraziare la cittadinanza per l'impegno che ha dato, l'incoraggiamento che ci ha sempre sopportato, riconoscendo che in un cittadino non potevamo premiare tutti i cittadini brisciani, ma un suo cittadino, un nostro concittadino che si fosse messo in luce per qualche cosa di positivo. E però non siamo noi a decidere, ma sono proprio i brisciani che eleggono il loro cittadino dell'anno. E quest'anno è andato a Don Fabio Corazzina per i molteplici impegni di solidarietà, e non solo che ci rende orgogliosi tutti noi brisciani. Un lavoro trasversale, quello di Don Fabio Corazzina. Esatto, è molto difficile, trasversale come diceva lei, e comunque io quando l'ho vista, l'ho potuto conoscere per l'occasione, e veramente mi sono sentito, mi ha arricchito proprio dentro, quando si parla con una persona come Fabio Corazzina. La capisco, quando c'è quella persona con un certo carisma, ci si arricchisce. Veramente, sono andato via, anche se sei triste, e riesci a dare il tuo sorriso, forse uno dei tuoi sorrisi migliori, perché veramente ti fa stare bene. E quindi penso che i brisciani sono attenti a quelle cose qua. Non è come si pensa, tanto si dimenticano tutte, non è vero. Le cose positive forse dimenticano le cose brutte, le troppe cose brutte, o fingono di dimenticarle, ma le cose belle ai brisciani che fanno da bene per la nostra città, non le dimenticano. E infatti hanno stravinto, hanno scelto quasi tutti, è stata una cosa plebiscitaria. Bene, la cosa ci garba parecchio, complimenti per questo premio a Fabio Corazzina. Torniamo a noi, Luisa, con le proposte e quello che ritroviamo in questo periodo. Sì, abbiamo finito di allestire le mostre che inaugureranno questo sabato, quindi sabato 9 maggio, alle ore 17, inauguriamo come ogni mese tre mostre. Abbiamo nella nostra sala mostre l'esposizione di Fabio Cigolini, che è un socio del nostro Cinefotoclub, con una mostra dal titolo Street. Quindi sono immagini raccolte, catturate per strada, quindi la famosa street photography. In questo caso siamo abituati, più che altro, anche ai grandi maestri della street, che hanno realizzato queste immagini in bianco e nero. In questo caso avremo una sorpresa, perché queste immagini sono a colori, e quindi ci danno un'interpretazione più contemporanea, più moderna di questo tema, che tra l'altro è molto praticato, e molto diffuso. Nella sala espositiva esterna abbiamo invece una mostra, a cui teniamo moltissimo, che si intitola Lo sguardo degli altri, che è una mostra fotografica collettiva, realizzata dai ragazzi e delle ragazze del centro bresciano Down, sotto la guida di Silvano Peroni. È una mostra a cui teniamo molto, perché è a ricordo di un fotografo, che purtroppo è venuto a mancare nell'ottobre dello scorso anno, che è Ernesto Mezzera, che è stato tra i promotori entusiasti di questo progetto, che poi è stato portato avanti appunto da Silvano Peroni e da un team di fotografi esperti. Segue un progetto che era già stato fatto nel 2012, in cui questi ragazzi erano stati fotografati da un gruppo di fotografi professionisti, e invece quest'anno, con questa mostra, i ragazzi sono diventati i protagonisti dello scatto, nel senso che sono stati messi dietro l'obiettivo, e quindi sono diventati proprio i realizzatori di queste immagini, che sono state realizzate con una tecnica particolare, che è quella del Polaroid, quindi della fotografia istantanea. Esatto. Quindi troveremo proprio l'idea del pezzo unico, quindi dell'opera d'arte a copia unica, come può essere la Polaroid, e poi come mostra nel cassetto, che ricordo questa mostra che è stata inventata e pensata dal nostro segretario Gian Battista Pruzzo, per dare vita alle opere e alle fotografie del nostro archivio. in questo caso troviamo una serie di immagini dedicate all'inaugurazione dello scorso mese, in cui si vede appunto Don Fabio Corazzini, il personaggio bresciano dell'anno, nell'obiettivo di Enzo Serramondi, che è un nostro socio, che ha scattato anche le immagini che avete visto passare prima e che entrano di fatto nell'archivio del museo. Stavo pensando a quanto è bello riuscire a vedere con gli occhi di questi ragazzi speciali, tornando al discorso della fotografia collettiva del centro bresciano Down, perché sicuramente danno anche una chiave di lettura forse diversa dalla nostra, a ciò che si osserva. E questa mostra sicuramente ci porta, no? in questo percorso, a vedere le cose con degli occhi speciali. Molto, molto bello. Allora, poi, Luisa, abbiamo citato tante, tante cose, naturalmente ricordiamo il Museo Nazionale della Fotografia si trova nel Carmine, nel cuore del Carmine, siamo in via. In Contrada Carmine 2F. 2F, è sempre un piacere, tra l'altro adesso avete dei vicini di casa poco, non ingombranti, però, insomma, spesso dal Tombino escono gli amici di Brescia del Ground. Assolutamente, il sabato li vediamo sempre, con piacere. Quindi è un percorso, potreste fare tranquillamente, il percorso sotterraneo, uscire dal Tombino e poi entrare direttamente al Museo Nazionale. Vi aspettiamo anche con gli stivaloni. C'è tanto materiale e tanti reperti, anche archeologici quasi, dalla fotografia, giusto? Sì, abbiamo con la possibilità anche di visite guidate e anche questa settimana abbiamo avuto moltissime scolaresche e soprattutto elementari che sono venute a visitare il museo e quindi c'è la possibilità oltre a frequentare il sabato pomeriggio e quindi ad assistere ai vari eventi che possono essere dalle inaugurazioni agli incontri con l'autore, anche la possibilità di visitare tutta la collezione permanente del museo che racconta appunto la storia della fotografia dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Ci riparli dei concorsi? Sì, in particolare dopo il San Faustino abbiamo il concorso della Mille Miglia che quest'anno è giunto alla sua 27esima edizione e verranno premiate le fotografie che saranno scattate dal 14 al 17 maggio che sono appunto le date della Mille Miglia in tutta Italia quindi è un concorso nazionale e la giuria quest'anno è formata da tre esperti fotografi che sono Carla Cinelli Ivan Giuliani e Mauro Negri che valuteranno le fotografie e poi il 4 luglio verrà inaugurata la mostra con le fotografie ammesse e premiate. Allora io stavo leggendo ogni autore può partecipare con massimo quattro stampe nei formati 20x30 e 30x40 sul retro di ogni opera andranno riportati i dati della scheda di partecipazione la quota di partecipazione è 10 euro gratuito per i soci e le foto devono essere scattate per forza di cose con una reflex? No possono essere scattate con qualsiasi strumento con qualsiasi mezzo a noi deve pervenire poi la stampa fotografica in questi due formati quindi per esempio se qualche d'uno si trova sull'automobile con lo smartphone questo è un po' elitario insomma chi si trova sull'automobile però si trova in giro con lo smartphone riesce a fare una bella foto perché spesso capita magari quel momento quell'atimo particolare la macchina che sprecia con può partecipare anche con uno scatto fatto appunto da un telefonino sì l'importante è che questo telefonino dia la possibilità di stampare una fotografia che sia decente in un formato almeno 20-30 esatto sappiamo e le fotografie possono essere consegnate in segreteria il martedì mercoledì e il giovedì mattino oppure il sabato è la domenica pomeriggio allora di riflessi cos'hai da raccontarmi riflessi è uno del è il prossimo concorso interno perché ogni mese per 10 mesi all'anno escludendo l'estate abbiamo questo che è il concorso interno ed è una scuola di approfondimento ogni mese viene dato un tema i fotografi hanno modo di mettersi alla prova e presentare tre fotografie durante questo sabato pomeriggio c'è una giuria che direttamente valuta e fa una critica costruttiva e quindi appunto per questo è una scuola di approfondimento e il giorno stesso vengono decretate le prime cinque e la prima fotografia la vincitrice rimane esposta per tutto il mese successivo nelle sale e nella sala del museo meravigliosa questa che abbiamo visto immagino sia un gioco di riflesso con uno specchio e dà l'immagine in realtà di un'infinità di di ampolle bene c'è qualcos'altro da aggiungere? aggiungere il prossimo appuntamento serale che è venerdì prossimo che dovrebbe essere il 15 se non mi sbaglio il 15 maggio alle 20 e 30 sempre sulla fotografia presentiamo il libro di Gabriele Chiesa come vedo l'immagine un appuntamento serale su questo libro che racconta uno dei tanti modi in cui si può vedere la fotografia in questo caso una visione personale di Gabriele Chiesa che è uno storico ricercatore della storia della fotografia lui di dov'è? di Brescia di Brescia quindi bella soddisfazione venerdì 15 maggio presso il Museo Nazionale della Fotografia se qualcuno volesse avvicinarsi a quest'arte può contattarvi per avere delle informazioni corsi e quant'altro? sì assolutamente i corsi riprenderanno questo autunno quindi facciamo la sospensione per l'estate e quindi poi da settembre-ottobre ricominceremo con i corsi di fotografia va bene comunque anche giustamente solo per avere delle immagini e scorrere con queste immagini fotografie bellissime ricordiamo il sito internet è museobrescia.net museobrescia.net ma la cosa migliore è portarsi proprio in centro e godersi questo museo che è un gioiello a livello nazionale lo ricordiamo siamo tra i pochi forse è il più importante d'Italia sì siamo il museo con più reperti antichi in Italia assolutamente sì vengono anche da fuori Brescia sì 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 assolutamente anche spagnoli inglesi francesi soprattutto poi durante l'estate quando si trovano sul lago sui nostri laghi poi il giretto in città li porta a visitare anche il museo della fotografia è una cosa strana magari vengono pochi bresciani però più dall'estero adesso cominciano a venirne di più mi fa piacere allora ringraziamo i nostri ospiti la dottoressa Luisa Bondoni vicepresidente del museo nazionale della fotografia ma anche curatrice artistica grazie Luisa grazie a te e ringraziamo anche Gian Battista Pruzzo segretario del museo nazionale della fotografia grazie grazie e ci fermiamo per un attimo torniamo tra poco grazie a te grazie a te grazie a te